Fuoco di fila di domande d'attualità nella prima parte del Consiglio Comunale. A partire dai Ciringuitos, finiti all'onore delle cronache dopo la rottura tra le categorie sul rario di spegnimento della musica. L'assessore Sade Golvad ha risposto ad un'interrogazione del consigliere di obiettivo civico Bellucci. Tenacemente cercato un accordo. L'accordo, devo dire la verità, sembrava essere raggiunto, dopodiché c'è stata una rottura tra le associazioni di categoria. È evidente a questo punto che l'onore e l'onere della decisione spetterà a noi e vedremo come fare. Quindi il discorso delle 23 e 30 effettivamente era una richiesta giunta inizialmente all'unanimità da parte delle associazioni di categoria. La rufospina di Forza Italia è tornata invece sul tema delle carovane nomadi. Nessuna condiscendenza, ha risposto l'assessore Sade Golvad, ricordando i vari interventi di Polizia Municipale e Carabinieri per allontanare le carovane. Io ritengo che l'amministrazione e la Polizia Municipale che non possono fare i sequestri, però se vanno insieme ai carabinieri possono riuscire a fare in sinergia delle operazioni, volte anche a togliere a questi soggetti lo strumento con cui loro fanno le occupazioni abusive. Quindi il sequestro delle roulotte è semplice, perché se no loro cosa fanno? Voi li allontanate e loro tornano un secondo dopo. Il consigliere di patto civico Frisoni ha invece espresso dubbi sul regolamento per i cani in spiaggia. È un regolamento che non può essere fatto con un'ordinanza, perché riguarda milioni di persone e non tutti vogliono gli animali in spiaggia, non tutti vogliono gli animali in acqua e noi dobbiamo tenere conto. Approvato poi con 17 voti favorevoli e 9 contrari, l'ordine del giorno sulla variazione di bilancio di previsione. Tra l'altro è previsto l'investimento di 450 mila euro per camerini e attrezzature di scena del Teatro Galli e il riconoscimento di un debito fuori bilancio per far fronte alla sentenza del Tribunale di Bologna che ha condannato il Comune a pagare 716 mila euro al privato in merito al contenzioso sui lavori di ristrutturazione risalente agli anni 90 dell'immobile Aquila d'Oro. Il consigliere della Lega Zoccarato ha invece contestato la richiesta del Comune di poter accogliere altri 80 richiedenti asilo tramite il progetto SPRAR. Secondo il Carroccio, gli 1,4 milioni nel triennio erogati dal Ministero, 490 al mese per ogni rifugiato, non sarebbero sufficienti a coprire tutte le spese e quindi sarebbe il Comune a dover intervenire. Il Lazioni ribatte l'amministrazione, ribadendo la bontà del progetto e il fatto che non comporti costi vivi a carico del bilancio. Fondamentalmente il Ministero dell'Interno per ogni persona che noi andiamo ad ospitare ci riconosce 483 euro al mese. Ora voi mi volete venire a raccontare che con 483 euro al mese noi una persona riusciamo a mantenerla, da mangiare, da bere, da lavare, da pulire, da educare, coinvolgere. Lo SPRAR è un progetto che viene coordinato dal Ministero degli Interni, il Comune coordinato dalle prefetture è soggetto esecutore per conto terzi e soprattutto in questo, se l'assessore Elisi me lo conferma, non investe risorse. Il Consiglio ha poi approvato anche una ratifica di delibera di giunta riguardante una variazione al bilancio legata al progetto Tiberio, trovando però le forti critiche dei consiglieri Renzi e Ruffo Spina. Quella trave di ferro orribile, aggettante sulla piazzetta Pirinela, ha completamente distrutto la visuale del ponte di Tiberio. Abbiamo già fatto la passerella, il sindaco ha avuto la passerella, vai per la passerella, adesso il balcone, vai per il balcone. Adesso dobbiamo fare... Ma che vai per il balcone? Ma che balcone? Il balcone, va bene, tutta roba. Adesso poi a un certo momento andiamo a fare tutti questi inter... è un altro milione qui che spendiamo, un altro milione. Cioè io voglio dire una cosa, poi a un certo momento scopriamo la tassa sui passi carrai perché non abbiamo i soldi.